Epilogo. Piani per salvare Mitia. Cinque giorni dopo il processo di Mitia, di buon mattino, prima delle nove, Agliosha andò da Caterina Ivanovna per prendere gli ultimi accordi riguardo a una faccenda della massima importanza per entrambi. Egli aveva anche un messaggio da darle. Ella stava seduta a parlare con lui, nella stessa stanza in cui avevano ricevuto Grushenka quella volta. Nella camera accanto giaceva, privo di conoscenza, Ivan Fyodorovich, con la febbre alta. Caterina Ivanovna, subito dopo la scenata del processo, aveva ordinato che Ivan Fyodorovich, malato e privo di conoscenza, fosse portato a casa sua, incurante dei futuri e inevitabili pettegolezzi della società e della disapprovazione generale. Una delle due parenti che vivevano con lei era partita per Mosca subito dopo quella scenata in tribunale. L'altra era rimasta. Ma anche se fossero andate via entrambe, Caterina Ivanovna non avrebbe modificato la sua decisione di prendersi cura del malato e di vegliarlo giorno e notte. Lo curavano Varvinsky e Gercenstube. Il dottore di Mosca invece era tornato a casa, rifiutando di esprimere la propria opinione riguardo al probabile esito della malattia. Altri dottori dal canto loro, per quanto facessero coraggio a Caterina Ivanovna e ad Agliosha, non potevano tuttavia dar loro speranze, questo era evidente. Agliosha andava a trovare il fratello malato due volte al giorno, ma questa volta aveva una questione particolarmente urgente e per quanto prevedesse che sarebbe stato difficile affrontare l'argomento, tuttavia aveva molta fretta. Lo aspettava un altro impegno, improrogabile quella mattina, e doveva sbrigarsi. Era già un quarto d'ora che stavano parlando. Caterina Ivanovna era pallida e molto affaticata, ma allo stesso tempo si trovava in uno stato di terribile, morbosa eccitazione. Aveva un presentimento del motivo per il quale, fra l'altro, Agliosha si era recato da lei quella mattina. Non vi preoccupate della sua decisione, diceva ella con ferma insistenza ad Agliosha. In un modo o nell'altro ricorrerà a questa via d'uscita e gli deve fuggire. Quell'infelice, quell'eroe dell'onore e della coscienza, non quello, non Dimitri Fiodorovic, ma quell'altro, che giace oltre quella porta e che si è sacrificato per il fratello, soggiunse Katia con gli occhi che le scintillavano. Da molto tempo mi ha messo al corrente del piano di fuga. Sapete, aveva già iniziato le trattative, ve l'ho già detto. Vedrete, accadrà con ogni probabilità. Alla terza tappa a partire da qui, quando tradurranno il gruppo dei deportati in Siberia. Oh, ce ne vuole di tempo ancora. Ivan Fiodorovic ha già fatto visita al sovraintendente della terza tappa. Solo che non sappiamo chi sarà il sovraintendente del gruppo di deportati. e non c'è modo di saperlo in anticipo. Domani, forse, vi mostrerò nei dettagli l'intero piano che mi ha lasciato Ivan Fiodorovic alla vigilia del processo, per ogni evenienza. È stato quella sera che ci avete trovato a litigare. Vi ricordate? Lui stava scendendo le scale e io, vedendo voi, l'ho costretto a tornare. Vi ricordate? Sapete perché stavamo litigando quella volta. Non lo so, rispose Aglioscia. Ovviamente, ve lo teneva nascosto. Era proprio per via di quel piano di fuga. Mi aveva esposto l'idea in generale tre giorni prima e da quel momento abbiamo cominciato a litigare e abbiamo continuato per tre giorni. Litigavamo perché quando mi aveva detto che, nel caso Mitia fosse stato condannato, sarebbe fuggito all'estero con quella canaglia, io mi ero infuriata. Non vi dirò per quale motivo. Non lo so neanche io per quale motivo. Oh, naturalmente ero furiosa per quella canaglia e proprio per il fatto che anche lei fuggisse all'estero insieme a Dimitri, esclamò Caterina Ivanovna con le labbra che le tremavano per la collera. Non appena Ivan Fiodorovic vide che mi infuriavo per via di quella donna, subito pensò che fosse gelosa di Mitia e quindi che continuassi ad amarlo. E così scoppiò la prima lita. Io non avevo voglia di dare spiegazioni e non potevo chiedere scusa. Mi era penosa che un uomo del suo calibro potesse sospettare che io amassi ancora quell'uomo. E questo dopo che, già da molto tempo, gli avevo detto in faccia che non amavo Dimitri, ma amavo soltanto lui. Solo per la stizza contro quella donna mi infuriai contro di lui. Tre giorni dopo, proprio quella sera che veniste voi, egli mi portò una busta sigillata che io avrei dovuto aprire immediatamente. nel caso gli accadesse qualcosa. Oh, egli prevedeva il suo male. Egli mi rivelò che quella busta conteneva i dettagli della fuga e che nel caso egli fosse morto o si fosse gravemente ammalato, io avrei dovuto salvare Mitia da sola. In quell'occasione mi lasciò anche il denaro, quasi diecimila rubli, gli stessi ai quali ha fatto riferimento il procuratore nella sua arringa, dopo aver saputo che egli li aveva mandati a cambiare. Fui tremendamente colpita nello scoprire che Ivan Fyodorovich non aveva rinunciato alla sua idea di salvare il fratello e che sebbene fosse geloso di me e ancora convinto che io amassi Mitia, confidava proprio a me il suo piano. Oh, quello era un sacrificio. No, voi non potete comprendere appieno una tale abnegazione. Alexei Fyodorovich, io volevo cadere ai suoi piedi per la venerazione, ma poi mi passò per la mente che egli avrebbe pensato che io l'avessi fatto soltanto per la gioia che Mitia si salvasse e lui l'avrebbe pensato sicuramente. Ed ero così esasperata al solo pensiero che gli potesse venire in mente un'idea così ingiusta che invece di baciargli i piedi gli feci un'altra scenata. Oh, come sono infelice. È il mio carattere, il mio terribile e infelice carattere. Oh, vedrete, finirò con l'indurlo a lasciarmi per un'altra, per una con la quale gli sia più facile vivere, come ho fatto con Dimitri. Ma questa volta no, questa volta non lo sopporterei, ne ammazzerei. E quando voi arrivaste e io vi chiamai e gli dissi di tornare indietro e lui rientrò con voi, nel vedere lo sguardo carico di odio e disprezzo che egli mi rivolse, io fu invasa da una tale rabbia che, ve lo ricordate, vi gridai che era stato lui, soltanto lui, a convincermi che l'assassino era il fratello Dimitri. Lo calunniai di proposito per ferirlo un'altra volta. Egli non aveva mai, mai tentato di convincermi che l'assassino fosse suo fratello. Al contrario, ero stata io a tentare di convincere lui. Oh, la mia irascibilità è alla radice di tutto. Sono stata io, io, a preparare la strada a quella maledetta scenata al processo. Egli ha voluto dimostrare a me di essere un uomo integerrimo e che per quanto io amassi suo fratello, egli non lo avrebbe mai rovinato per ripicca o gelosia. E così si presentò al processo. Io sono la causa di tutto. La colpa è solo mia. Katia non aveva mai fatto simili confessioni ad Agiosha prima di allora. Ed egli intui che ella si trovava in quello stadio di insopportabile sofferenza nel quale persino gli esseri più orgogliosi demoliscono penosamente il proprio orgoglio e crollano sconfitti dal dolore. Oh, Agiosha conosceva un'altra terribile ragione della sua attuale infelicità. Sebbene ella gliel'avesse accuratamente celata in tutti quei giorni seguiti al processo di Mitia. Ma per qualche ragione sarebbe stato troppo doloroso per lui se ella si fosse decisa a umiliarsi a tal punto da cominciare a parlare lei stessa di quell'altra ragione. Ella soffriva per il tradimento al processo e Agiosha sentiva che la coscienza di lei la stava spingendo ad accusare se stessa proprio dinanzi a lui, dibattendosi per terra, fra lacrime, urla e esterismi. Ma egli temeva quel momento e desiderava risparmiargielo. Rendeva ancora più gravoso l'incarico per il quale era avvenuto. Egli riprese a parlare di Mitia. Tutto bene, tutto bene, non temete per lui. Ella ricominciò testardamente in tono rusco. È una cosa del momento, lo conosco bene. Conosco sin troppo bene il suo cuore. State pur certo che acconsentirà a fuggire. Soprattutto, visto che non è una cosa immediata, avrà tutto il tempo per cambiare idea. Ivan Fiodorovic si sarà rimesso per allora e condurrà la faccenda di persone, così che io non avrò più niente a che fare con questo. Non vi preoccupate, egli acconsentirà a partire. In fondo è già d'accordo. Pensate che vorrà mai rinunciare a quella canaglia? E non gli consentirebbero di portarsene ai lavori forzati, quindi sarà costretto a fuggire. Siate voi la persona che gli teme. Teme che voi non approviate la fuga, da un punto di vista morale. Ma voi dovete generosamente permetterglielo, visto che la vostra sanzione è così indispensabile in questo caso. Katia soggiunse velenosamente. Ella tacque per un po' e sorrise. Non fa che parlare di certi inni, soggiunse poi, di una croce che deve portare, di un dovere. Ricordo che Ivan Fiodorovic me ne ha parlato molto. E se sapeste come ne parlava, gridò Katia all'improvviso con sentimento incontenibile. Se sapeste quanto amava quel disgraziato in quei momenti in cui mi parlava di lui e quanto lo odiava, forse al tempo stesso. E io che ascoltavo la sua storia e le sue lacrime con scherno sprezzante. Che canaglia! La canaglia sono io. Sono io che gli ho fatto venire la febbre. Ma quell'altro, il condannato, è forse egli disposto alla sofferenza? Conclusa irritata Katia. E un uomo simile può soffrire? Gli uomini come lui non soffrono mai. Una nota di odio e repulsione sprezzante risuonava nella sua voce. Eppure era stata lei a tradire lui. Forse è proprio perché sente di essere colpevole verso di lui che ella lo odia tanto in certi momenti. Agiosha pensò fra sé. E gli sperava che fosse soltanto in certi momenti. In queste ultime parole di Katia, egli avvertì una sfida, ma non la raccolse. Vi ho convocato questa mattina perché voi mi promettiate di convincerlo. O anche voi ritenete che fuggire sarebbe disonesto, poco valoroso o forse non cristiano, eh? Soggiunse Katia con un tono di sfida ancora più evidente. Oh no! Gli dirò tutto, murmurò Agiosha. Egli vi chiede di andare da lui oggi stesso, disse poi bruscamente guardandola dritto negli occhi. E l'altra salì e vacillò leggermente, ritraendosi da lui sul divano. Io? È mai possibile? Balbettò impallidendo. Non solo è possibile, ma deve essere così, incalzò Agiosha animandosi tutto. Ha molto bisogno di voi adesso, proprio in questo momento. Non avrei toccato questo argomento e non vi avrei disturbata in anticipo se non fosse stato necessario. Egli è malato e come fuori di sé non fa che chiedere di voi. Non vuole vedervi per riconciliarsi con voi. Vuole soltanto che voi andiate e vi affacciate alla sua soglia. Gli sono successe molte cose da quel giorno. Egli ha compreso quanto sia smisuratamente grande la sua colpa nei vostri confronti. Non vuole il vostro perdono. È impossibile perdonarmi, dice lui stesso. Vuole soltanto che voi vi affacciate alla sua soglia. Voi mi avete, così all'improvviso, balbetava Katia. Ho avuto il presentimento in tutti questi giorni che sareste venuto con questo messaggio. Sapevo che mi avrebbe chiesto di andare da lui. È impossibile. Che sia pure impossibile, ma fatelo. Pensate, egli è stato colpito per la prima volta dalla consapevolezza dell'affronto che vi ha fatto, per la prima volta nella vita. Non l'aveva mai compreso così pienamente. Egli dice, se la rifiuta di venire, allora da adesso in poi sarò infelice per tutta la vita. Avete sentito? Nonostante sia stato condannato a vent'anni di lavori forzati, egli pensa ancora di poter essere felice. Non fa pena questo? Pensateci, voi andrete a far visita una persona rovinata, pur essendo innocente, disse Agiosha in tono di sfida. Le sue mani sono pulite, non c'è traccia di sangue. Per amore delle infinite sofferenze che lo aspettano, andate a trovarlo adesso. Andate, accompagnatelo nell'oscurità, affacciatevi alla sua porta, è tutto. Voi dovete farlo, dovete farlo, concluse Agiosha, accentuando con straordinaria forza le parole dovete. Devo, ma non posso, disse Katia quasi gemendo, egli mi guarderà. E io non posso. I vostri occhi devono incontrarsi. Come farete a vivere tutto il resto della vostra vita se non vi decidete a farlo adesso? Meglio soffrire per tutta la vita. Voi dovete andare, voi dovete andare, Agiosha ripete inesorabile. Ma perché oggi, perché adesso? Non posso abbandonare il malato. Per un minuto potete farlo e ci metterete soltanto un minuto. Se non ci andrete, stanotte gli prenderà il delirio. Non vi direi una bugia. Abbiate pietà di lui. Abbiate pietà di me, disse Katia, in un tono di amaro biasimo e scoppiò a piangere. Dunque ci andrete, disse Agiosha in tono fermo, vedendo le sue lacrime. Adesso andrò da lui e gli dirò che voi state arrivando. No, non diteglielo. Per nessun motivo, gridò Katia allarmata. Ci verrò, ma non anticipateglielo, perché forse verrò, ma non entrerò. Non lo so ancora. La voce le si incrinò e la respirava a fatica. Agiosha si alzò per andare via. E se dovesse incontrare qualcuno? Disse a mezza voce ad un tratto impallidendo un'altra volta. Ecco perché dovete andarci adesso, per evitare di incontrare qualcuno. Non ci sarà nessuno. Adesso, posso assicurarvelo. Vi aspetteremo, concluse enfaticamente e uscì dalla stanza. Per un momento la menzogna diventa verità. Egli si affrettò ad andare in ospedale, dove allora si trovava Mitia. Il giorno dopo la sentenza della corte, egli si era ammalato di febbre nervosa ed era stato ricoverato nell'ospedale della nostra città, nel reparto riservato ai detenuti. Ma il dottor Varvinsky, dietro richiesta di Agiosha e di molti altri, la signora Cuklakova, Lisa e altri, aveva sistemato Mitia non con gli altri detenuti, ma in una stanzetta separata, la stessa dove era stato Smerdiakov. Vero è che alla fine del corridoio c'era la guardia di una sentinella e la finestra aveva l'inferriata. Quindi Varvinsky poteva stare con la coscienza tranquilla per via di quel riguardo, ma non del tutto legale, che aveva concesso. Era un giovanotto buono e compassionevole. Egli si rendeva conto di come potesse essere penoso per una persona come Mitia piombare direttamente in un ambiente di assassini e malfattori. Era necessario che si abituasse gradualmente. Le visite di parenti e amici erano tacitamente ammesse sia dal dottore, sia dal direttore della prigione, sia dallo stesso capo della polizia. Ma in quei giorni solo Agiosha e Grushenka andavano a trovare il malato. Rakitin aveva tentato due volte di vederlo, ma Mitia aveva chiesto espressamente a Varvinsky di non farlo entrare. Agiosha lo trovò seduto sulla brandina, con il camice d'ospedale. Aveva un po' di febbre e aveva il capo avvolto da un asciugamano imbevuto di acqua e aceto. Egli rivolse uno sguardo dall'espressione vaga ad Agiosha che entrava, ma nei suoi occhi balenò una sorta di spavento. Dal giorno del processo egli si era fatto terribilmente pensieroso. A volte gli capitava di stare zitto per mezz'ora, a ponderare qualcosa intensamente, tormentosamente, incurante dei presenti. Se emergeva dalle sue riflessioni e cominciava a discorrere, parlava sempre in maniera brusca e mai di quello che avrebbe dovuto dire. A volte guardava il fratello con uno sguardo pieno di sofferenza. Pareva che fosse più a suo agio con Grushenka che con Agiosha. Vero è che non parlava quasi per nulla con lei, ma bastava che ella entrasse perché il suo volto si illuminasse. Agiosha si sedette sulla brandina accanto a lui, in silenzio. Questa volta Mitia aveva aspettato l'arrivo di Agiosha con apprensione, ma non osava domandargli nulla. Egli riteneva che il consenso di Katia ad andare a trovarlo fosse indispensabile e, allo stesso tempo, sentiva che se ella non fosse andata da lui sarebbe stato intollerabile. Agiosha comprendeva i suoi sentimenti. Quel Trifon, esordimitia con nervosismo. Sì, Borisovie. Dicono che stia mettendo a soccuadro tutta la locanda. Solleva tavole, stacca assi. Ha fatto a pezzetti tutta la balconata, dicono. Non fa che cercare il tesoro, cioè quel denaro, quei 1500 che il procuratore ha detto che io ho nascosto lì. Non appena tornato a casa ha cominciato subito a far pazzie. Ben gli sta bene a quell'imbroglione. Me l'ha raccontato ieri la sentinella. È di quelle parti. Ascolta, gli disse Agiosha, e la verrà, ma non so quando. Può essere oggi come fra qualche giorno. Non ti so dire di preciso, ma verrà. Verrà, questo è sicuro. Mitia trasalì. Accennò a dire qualcosa a Matacque. Quella notizia ebbe un effetto straordinario su di lui. Era evidente che egli aveva una voglia tremenda di conoscere i particolari della conversazione, ma aveva timore di chiedere. Un qualunque segno cattivo e sprezzante da parte di Katia in quel momento sarebbe stato come una pugnalata per lui. Fra l'altro mi ha detto che devo assolutamente tranquillizzarti riguardo alla fuga. Se per quel momento Ivan non sarà guarito, pensarà lei stessa a tutto. Me ne hai già parlato, osservò Mitia assorto nei suoi pensieri. E tu lo hai riferito a Grushka? Osservò Giosha di rimando. Sì, ammise Mitia. Ella non verrà stamattina, disse guardando timidamente il fratello. Verrà soltanto stasera. Quando ieri le ho detto che Katia stava prendendo provvedimenti, ella non ha fiatato, ma le labbra le si contraevano. Ella ha soltanto mormorato. Che faccia pure. Ha capito che era una cosa importante. Non ho osato metterla ulteriormente alla prova. Credo chi comprenda che a Katia non importa più niente di me, ma ama Ivan. Davvero? Sfuggi ad Giosha. Forse non è proprio così. Solo che stamattina non verrà. Si affrettò a spiegare di nuovo Mitia. Le ho affidato un incarico. Sai, il fratello Ivan ci supererà tutti. Egli dovrebbe vivere, non noi. Egli guarirà. Pensa, per quanto Katia sia tanto in ansia per lui, ella non ha dubbi che guarirà, disse a Giosha. Questo vuol dire che è convinta che egli morirà. È per paura che è convinta che egli guarisca. Nostro fratello ha una costituzione robusta. Anch'io ho molte speranze che egli guarisca, osservò Giosha inquieto. Sì, egli guarirà, ma ella è convinta che morirà. Ella ha molto dolore. Seguì il silenzio. Qualcosa di molto importante tormentava Mitia. A Giosha, io amo da morire, Grushenka, disse ad un tratto con voce tremante e rotta dalle lacrime. Non le permetteranno di venire laggiù insieme a te. A Giosha intervenne prontamente. E c'è qualcos'altro che volevo dirti. Mitia proseguì con una voce improvvisamente squillante. Se dovessero picchiarmi nel tragitto. Oppure, una volta giunti laggiù, io non mi sottometterei, ucciderei qualcuno e quelli mi fucilerebbero. E questo dovrebbe durare vent'anni. Qui già cominciano a darmi del tu. La sentinella mi si rivolge con il tu. Anche stanotte non ho fatto che sottopormi a giudizio e ho concluso che non sono pronto. Non ho la forza di accettare tutto questo. Io volevo intonare l'inno, ma poi non ho la forza di sopportare che una sentinella mi dia del tu. Per amore di Grushen affronterei qualunque cosa, tutto, eccetto le percosse. Ma non le permetteranno di venire laggiù. Agliossa sorrise dolcemente. Ascolta, fratello, una volta per tutte. E gli disse. Ecco che cosa penso a questo proposito. E tu sai che io non ti mento mai. Ascoltami bene. Tu non sei pronto e una croce così gravosa non è per te. Inoltre, questa croce da grande martire a te, che non sei pronto, non può servire. Se tu avessi ucciso il nostro padre, mi sarei rammaricato che tu avessi respinto la tua croce. Ma tu sei innocente e questa croce è troppo per te. Tu volevi generare in te stesso un uomo nuovo per mezzo delle tue sofferenze. Io comunque tu vada a rifugiarti. E questo sarà sufficiente per te. Il fatto che tu abbia respinto la grande sofferenza della croce ti servirà a sentire dentro di te un dovere ancora più grande. E questo costante sentimento, che ti accompagnerà tutta la vita, contribuirà a fare di te un uomo nuovo, molto di più che andare laggiù. Perché tu non lo sopporteresti e cominceresti a mormorare. E forse arriveresti a dire, adesso siamo pari. L'avvocato aveva ragione. Fardelli così pesanti non sono fatti per tutti gli uomini. Per alcuni sono addirittura insostenibili. Ecco quello che penso a questo proposito, se volevi saperlo. Se altre persone dovessero rispondere per la tua fuga, ufficiali o soldati, allora io non te lo permetterei. E dicendo questo, Agiosha sorrise. Ma dicono e assicurano, l'ha detto quello stesso sovraintendente della tappa a Ivan, che potrebbe anche non esserci questo granché di punizione, se la cosa viene fatta con accortezza e che sarebbe possibile cavarsela con poco. Certo la corruzione è disonesta, anche in questo caso, ma io non mi metterò mica a giudicare, perché se Ivan e Katia chiedessero a me di occuparmi della faccenda per aiutare te, io so che andrai di persona a corrompere le persone. È un dovere per me dirti tutta la verità, e quindi non posso giudicare il tuo operato. Ma sappi che io non ti condannerò mai, e sarebbe anche strano se io mi mettessi a giudicarti in questa faccenda, vero? Adesso credo di avere preso in considerazione ogni punto. Ma sono io che condannerò me stesso, esclamò Mitia. Io fuggirò, questo era stato deciso a prescindere da te. Che altro potrebbe fare, Mitia Karamazov, se non fuggire? Tuttavia mi condannerò e pregherò per il perdono del mio peccato per tutta la vita. È così che parlano i gesuiti, vero? Proprio come stiamo facendo io e te, in questo momento, non è vero? Proprio così, rispose Agliossa, sorridendo dolcemente. Io ti voglio bene, per il fatto che dici sempre la verità e non nascondi mai nulla, il Dom Mitia con una risata gioiosa. E così ho colto il mio Aglioscia mentre faceva il Gesuita. Dovrei coprirti di baci solo per questo. Ecco. Ma adesso ascolta anche il resto. Voglio rivelarti un'altra metà della mia anima. Ecco che cosa ho pensato e deciso. Se fugo, fosse anche con il denaro, fosse anche con il passaporto, fosse anche in America, mi rallegra il fatto che non vado incontro alla gioia, incontro alla felicità. Ma in verità fuggo verso un altro esilio. Brutto, forse. Quanto questo. Brutto quanto questo, Alexei. Sto dicendo la verità. Io, quell'America. Che diavolo se la pigli. La odio sin da adesso. Anche se Grushenka dovesse venire con me. Ma guardala. Ha forse l'aria di un'americana. Lei? Ella è russa. Russa fino al midollo. Essa avrà nostalgia della sua terra. E io ogni ora mi accorgerò che lei soffre di nostalgia per causa mia. Che ha preso su di sé questa croce per amore mio. Ma che colpa ha lei? E come potrò sopportare la gentaglia del luogo, sebbene essi tutti fino all'ultimo potrebbero essere migliori di me. Io odio quest'America sin da adesso. E fossero tutti. Dal primo all'ultimo dei macchinisti eccellenti. Che il diavolo si riporti. Quelli non sono la mia gente. Non hanno la mia stessa anima. Io amo la Russia, Alyosha. Io amo il Dio russo. Sebbene io stesso sia un mascalzone. Io soffocherò lì. Esclamò con gli occhi che gli brillavano. La sua voce tremava di lacrime. Quindi ho deciso questo, Alyosha. Ascolta. Ricominciò a parlare dominando l'emozione. Non appena arriveremo lì, Grushka e Dio, ci metteremo a lavorare immediatamente la terra, in solitudine, in qualche angolo remoto, con gli orsi selvaggi. Ci deve essere qualche posto remoto anche lì. Ho sentito che ci sono ancora i pelle rossa da qualche parte, ai confini dell'orizzonte. E noi andremo proprio in quella landa, dagli ultimi dei moicani. E ci metteremo subito a studiare la grammatica, Russia e Dio. Lavoro e grammatica. Diciamo per tre anni di fila. E dentro quel periodo avremmo imparato a parlare l'inglese meglio degli inglesi. E non appena l'avremmo imparato, addio America, se ne torneremo in Russia come cittadini americani. Non ti preoccupare, non torneremo in questo buco di città. Ci nasconderemo da qualche parte, lontano, a nord oppure a sud. Per quell'epoca sarò cambiato. E anche lei. In America, da un dottore qualsiasi, mi farò fare un porro posticcio. Non per niente sono meccanici, quelli. Oppure mi caverò un occhio. Mi farò crescere la barba di mezzo metro. Una barba canuta. Sarà la nostalgia per la Russia che mi farà incanutire. E credo che nessuno ci riconoscerà. E se ci riconosceranno e ci manderanno in Siberia, non me ne importerà niente. Vuol dire che ha la destino. Anche qui ci metteremo a lavorare la terra, in qualche landa remota, e per tutta la vita farò finta di essere un americano. Ma almeno moriremo nella nostra terra. Questo è il mio piano. E nulla lo potrà modificare. Lo approvi? Lo approvo. Rispose agli oscia che non lo voleva contraddire. Mi ti attacque per un minuto. Poi disse. Che brutta figura mi hanno fatto fare al processo. Mi hanno fatto fare una brutta figura, vero? Anche se non l'avessero fatto. Ti avrebbero condannato lo stesso, replicò agli oscia con un sospiro. Sì, sono venuto a noia al pubblico locale. Che Dio li benedica. Ma è dura. Gemette mitia dolorosamente. Tacquer per un altro minuto. Agli oscia, finiscimi in questo momento, esclamò egli all'improvviso. Verrà lei adesso o non verrà? Dimmelo. Che cosa ha detto? Con che tono l'ha detto? Ha detto che sarebbe venuta, ma non so quando. È penoso per lei. E agli oscia guardò timidamente il fratello. Ci mancherebbe che non lo fosse. Ci mancherebbe che non le fosse penoso. Agli oscia, questo mi farà impazzire. Gruscia continua ad osservarmi. Comprende tutto. Dio mio, da pace al mio cuore. Che cosa voglio? Voglio Katia. Lo capisco io che cosa voglio? È la malefica sfrenatezza caramazofiana. Io non sono fatto per soffrire. Sono un mascalzone, non c'è niente altro da dire. Eccola, esclamò agli oscia. In quel momento Katia era apparsa sulla soglia. Per un istante si era soffermata a guardare Mitia con gli occhi smarriti. Quello scattò impulsivamente ai suoi piedi. Il suo viso aveva un'espressione impaurita. Si era fatto pallido, ma ad un tratto un timido sorriso implorante affiorò sulle sue labbra e all'improvviso, mosso da un impulso irresistibile, egli protese entrambe le mani verso Katia. Nel vedere questo, Katia si slanciò impetuosamente verso di lui. Ella lo afferrò per le mani e lo fece sedere sul letto, quasi con la forza. Poi si sedette accanto e senza lasciargli le mani. Gliele stringeva forte, convulsamente. Più di una volta tutti e due furono sul punto di parlare. Si bloccavano e continuavano a guardarsi in silenzio, con uno strano sorriso, come incatenati l'uno all'altro. Passarono così un paio di minuti. «Mi hai perdonato?» balbettò finalmente Mitia. In quel momento stesso si rivolse ad Agioscia con il volto trasfigurato dalla gioia e gli gridò «hai sentito quello che le sto domandando? Hai sentito? Per questo io ti ho amato, per la generosità del tuo cuore», disse Katia ad un tratto. «E non sono io che devo perdonare te, ma sei tu che devi perdonare me. Comunque, che tu mi perdoni o no, rimarrai sempre una ferita nella mia anima, per tutta la mia vita, e io nella tua. Così deve essere». Ella smise di parlare per riprendere fiato. «Per quale motivo sono venuta? Riprese a parlare in fretta, freneticamente. Per abbracciare i tuoi piedi, per stringere le tue mani, così, fino a farti male. Ti ricordi come te le stringevo a mosca? Per dirti ancora una volta che tu sei il mio Dio, la mia gioia. Per dirti che ti amo alla follia. E la gemetta mette per l'angoscia. E improvvisamente si premette avidamente la mano di lui alle labbra. Le lacrime sgorgavano dai suoi occhi. Agli ossa stava in piedi, in silenzio, confuso. Non si sarebbe mai aspettato quella scena. «L'amore è finito, mitia», riprese a dire Katia. «Ma quel passato mi è tanto caro da farmi soffrire. Sappi che sarà sempre così. Ma adesso, per un minutino, facciamo in modo che sia come avrebbe dovuto essere», belbettava lei con un sorriso forzato, guardandolo negli occhi un'altra volta con gioia. «Tu ami un'altra donna e io amo un altro uomo, eppure ti amerò in eterno. E anche tu amerai me, lo sapevi questo. Mi senti? Amami, amami per tutta la vita», gridò con un fremito quasi minaccioso della voce. «Ti amerò, e sappi Katia», cominciò a dire mitia prendendo fiato ad ogni parola. «Sai, quella sera di cinque giorni fa, io ti amavo. Quando sei caduta ti hanno portata via, per tutta la vita. E così sarà. Così sarà in eterno». Tutti e due si mormoravano parole frenetiche, quasi senza senso, forse anche non vere, ma in quel momento era tutto vero. E tutti e due credevano ciecamente in quello che dicevano. Katia, esclamato un tratto mitia. «Tu credi che io abbia ucciso? Lo so che adesso non ci credi, ma allora, quando hai testimoniato, ci credevi? Ci credevi forse?» Anche allora non ci credevo. Non ci ho mai creduto. «Ti odiavo. Per questo me ne ero convinta all'improvviso, per un momento. Mentre testimoniavo, me ne ero convinta e ci credevo. Ma quando ho finito di parlare, ho smesso di crederci all'istante. Sappilo questo. Avevo dimenticato che ero venuta qui per punire me stessa», disse poi con una nuova intonazione di voce, completamente diversa dal balbettivo amorevole di appena un attimo prima. «Donna, tu sai in pena», disse mitia ad un tratto, quasi involontariamente. «Fammi andare», murmurò lei. «Tornerò ancora. Adesso è troppo penoso». Si stava alzando dal suo posto, quando lanciò un urlo lacerante e vacillò all'indietro. Grushenka era entrata nella stanza all'improvviso e senza far rumore. Nessuno si aspettava il suo arrivo. Katia si mosse rapidamente verso la porta, ma quando giunse vicino a Grushenka si fermò di scatto, si fece bianca come un lenzuolo e già mette piano, quasi in un sussurro. «Perdonatemi». Grushenka la guardò fissa. Poi, dopo la pausa di un istante, con una voce vendicativa e velenosa replicò «Io e te siamo cattive, mia cara, tutte e due cattive, come se fosse mai possibile perdonarci l'un l'altra. Piuttosto salva lui e io pregherò per te tutta la vita». «E non vuoi perdonarla?» gridò mitia con una nota di biasimo furente. «Sta tranquilla, te lo salverò», murmurò Katia rapidamente e uscì di corsa dalla stanza. «E tu hai potuto negarla il tuo perdono quando ella stessa per prima ha chiesto perdono a te», esclamò mitia con amarezza. «Mitia, non osare biasimarla, non ne hai alcun diritto», lo rimproverò Agiosha infervorato. «Hanno parlato le sue labbra orgogliose, non il suo cuore», proferì Grushenka con una sorta di disgusto. «Che ti salvi e le perdonerò tutto». Ella cessò di parlare, come se stesse reprimendo qualcosa. Non riusciva ancora a riprendersi. In tutto risultò che ella era entrata nella stanza del tutto casualmente, senza minimamente sospettare né immaginare quello che avrebbe trovato. «Aliosha, corri là dietro», mitia gridò a suo fratello. «Dille, non so cosa, ma non farla andar via così». «Tornerò da te prima di sera», gridò Agiosha e corse dietro a Katia. La raggiunse che aveva già oltrepassato il recinto dell'ospedale. Camminava in fretta, aveva premura. Ma non appena Agiosha l'ebbe raggiunta, gli disse rapidamente, «No, davanti a quella non posso punire a me stessa. Le ho chiesto perdono perché volevo punire a me stessa fino in fondo. Lei non mi ha perdonato. Io le voglio bene per questo», soggiunse con una voce innaturale. I suoi occhi scintillarono di un rancore selvaggio. «Mio metto in dubbio. Ma lasciamo stare», e la taglio corto. «Ascoltate, non posso venire al funerale con voi. Ho mandato loro dei fiori per la piccola bara. Penso che abbiano ancora del denaro. Se ce n'è bisogno, dite loro che non li abbandonerò mai. Ma adesso lasciatemi. Lasciatemi per favore. Così farete tardi. Le campane chiamano per l'ultima messa. Lasciatemi per favore». Il funerale di Yushenka e il discorso presso il macigno. Era davvero un ritardo. Lo avevano aspettato e avevano già deciso di portare in chiesa la piccola, graziosa bara ricoperta di fiori senza di lui. Era la bara del povero piccino Yushenka. Era morto due giorni dopo la condanna di Mitia. Al portone della casa, Agiosha fu accolto dalle grida dei ragazzi, i compagni di scuola di Yushenka. Lo avevano atteso tutti con impazienza ed erano contenti che fosse finalmente arrivato. Erano una dozzina circa. Avevano tutti le cartelle e le borse dei libri a tracolla. «Papà piangerà. Stategli vicino», aveva detto a loro Yusha morendo e i ragazzi lo avevano tenuto a mente. In testa Zarakolia Krasotkin. «Come sono contento che siate venuto», Karamazov esclamò tenendo la mano ad Agiosha. «Qui è terribile. È uno spettacolo davvero penoso. Znegiriev non è ubriaco, questo lo sappiamo per certo. Oggi non ha bevuto un goccio, ma è come se lo fosse. Io so controllarmi, ma questo è davvero terribile. Karamazov, non voglio trattenervi, ma potrei farvi una domanda prima che entriate». «Che c'è, Kolia?» domandò Agiosha fermandosi. «Vostro fratello è innocente o colpevole? È stato lui ad uccidere vostro padre o il Laché? Quello che voi dite, così è. Non ho dormito le ultime quattro notti a questo pensiero». «Ah, l'ha ucciso il Laché. Mio fratello è innocente», rispose Agiosha. «È quello che dicevo io», gridò ad un tratto il piccolo Smurov. «Così egli perirà vittima innocente della verità», esclamò Kolia. «Sebbene egli sia rovinato, è felice. Sono pronto anche ad invidiarlo». «Che cosa intendete? Come potete dire questo? E perché?» gridò Agiosha sorpreso. «Oh, se anche io potessi un giorno sacrificare me stesso alla verità», disse Kolia entusiasta. «Ma non in un'occasione simile, non con un'infamia, non con tale orrore», disse Agiosha. «Naturalmente, mi piacerebbe morire per l'umanità, quanto all'immagine». «Infamia non me ne importa niente. I nostri nomi possono anche perire. Io stimo vostro fratello». «Anch'io», gridò inaspettatamente dal gruppo quello stesso ragazzino che quel giorno aveva dichiarato di sapere che avesse fondato Troia e dopo aver gridato si fece rosso fino alle orecchie come una peonia, esattamente come l'altra volta. Agiosha entrò all'interno della casa. Agiosha giaceva con le braccia concerte e gli occhi chiusi in una barra celeste, decorata con una gala bianca. I tratti del suo scarno visetto non avevano subito quasi alcun mutamento e, strano a dirsi, il cadavere non emanava alcun odore. L'espressione del suo viso era seria e come pensierosa. Soprattutto le mani incrociate sul petto facevano un effetto particolarmente bello, sembravano scolpite nel marmo. Fra le mani aveva dei fiori e c'erano fiori dappertutto, all'interno e all'esterno. Li aveva mandati Lisa Zoklakova quella mattina, ma c'erano anche i fiori che aveva mandato Caterina Ivanovna e quando Agiosha aprì la porta il capitano aveva un mazzo di fiori fra le mani tremanti e con essi cospargeva ancora il suo caro ragazzo. Egli gettò a malapena un'occhiata ad Agiosha che entrava e dal resto non aveva voglia di guardare nessuno, nemmeno la moglie demente in lacrime, la sua mammina che tentava in continuazione di alzarsi sulle sue gambe malate per sbirciare più da vicino il suo figlioletto morto. Quanto ad Inoitka i ragazzi l'avevano sollevata sulla sedia e l'avevano portata proprio accanto alla bara. Ella stava seduta con la testa stretta stretta alla bara e anche lei sicuramente piangeva, ma sommessamente. Il viso Sittmiagiriev aveva un'aria animata ma come distratta e al tempo stesso esacerbata. Nei suoi gesti, nelle parole che pronunciava a scatti c'era qualcosa di folle. «Batiuska, caro Batiuska!» esclamava in continuazione guardando Agiosha. Egli aveva preso l'abitudine di chiamare Agiosha Batiuska quando questo era ancora in vita come vezzeggiativo. «Tapà, dà anche a me i fiorellini, prendi dalle sue mani di quello bianco e dammelo!» chiedeva singhozzante la mammina demente in tono capriccioso. Forse quella rosellina bianca fra le mani di Agiosha aveva colpito la sua immaginazione. O forse le era venuta voglia di prendere dalle sue mani uno di quei fiori in ricordo del figlioletto. Certo è che ella si agitava tutta, protendendo le mani verso quel fiorellino. «Non lo darò a nessuno, non lo darò a nessuno!» gildò Snigiriev spietatamente. «Sono suoi i fiori, non tuoi!» «È tutto suo, non tuo!» «Papà, date un fiorellino anche alla mamma!» disse di Noetka sollevando ad un tratto il viso bagnato di lacrime. «Non darò niente a nessuno, tanto meno a lei!» «Lei non voleva bene di Agiosha!» «Lei gli tolse il suo cannoncino e lui glielo regalò!» Il capitano ruppe in forti singhiozzi al pensiero di come Agiosha aveva ceduto il suo cannoncino alla madre. la povera demente si sciolse allora in un pianto sommesso, coprendosi il volto con le mani. I ragazzi, vedendo che il padre non voleva lasciare la bara e che era tempo di portarla fuori, si misero in cerchio tutti intorno e incominciarono a sollevarla. «Non voglio che venga sepolto al cimitero!» prese a strillare Snigiriev all'improvviso. «Lo seppellirò accanto al macigno, accanto al nostro caro macigno!» «Iliusha mi ha ordinato di fare così! Non vi permetterò di portarlo via!» Erano tre giorni che ripeteva che lo avrebbe sepolto presso il macigno, ma Agiosha, Grasotkin, la padrona di casa, sua sorella e tutti i ragazzi intervennero. «Ma che idea seppellirlo accanto a un macigno impuro, come fosse un impiccato!» disse duramente la vecchia padrona di casa. «Lì, al cimitero, la terra è benedetta! Lì si pregherà per lui!» Da lì si possono sentire i canti della chiesa e il diacono legge la messa, così chiaramente e ad alta voce, che ogni volta le sue parole lo raggiungeranno come se stesse dicendo la messa direttamente sulla sua tomba. Alla fine il capitano fece un gesto di disperazione, come a dire «Portatelo dove volete!» I ragazzi sollevarono la bara. Mentre passavano accanto alla madre, si fermarono un momento e la abbassarono, in modo che ella potesse dire addio a Giuscia. Ma nel vedere da vicino quel caro visetto, che in quegli ultimi tre giorni aveva visto solo da una certa distanza, ella tremò per tutto il corpo e la sua testa canuta prese ad ondolare avanti e indietro, convulsamente sulla bara. «Mamma, fagli il segno della croce, dagli la tua benedizione, bacialo!» le dava Nino Etka. Ma quella continuava ad ondolare il capo come un automa e con il volto contratto dall'amaro dolore, ella cominciò a battersi il petto con il pugno, in silenzio. Passarono oltre con la bara. Nino Etka, per l'ultima volta, premette le labbra su quelle del fratellino morto, quando si fermarono con la bara accanto a lei. Mentre usciva, Agioscia pregò la padrona di casa di badare alle due donne che rimanevano, ma ella lo interruppe prima ancora che quello finisse di parlare. «Questo si sa, certo che starò con loro. Anche noi siamo cristiani». E la vecchia piangeva mentre diceva questo. La chiesa non era molto lontana, 300 passi circa, non di più. La giornata si era fatta terza, tranquilla. Aveva gelato, ma non molto. Le campane della chiesa suonavano ancora. Znyegiriev correva affannato e smarrito dietro la bara, con il suo vecchio cappottino corto, quasi estivo, a capo scoperto, e con il vecchio cappello morbido a larghe falde in mano. Sembrava in preda ad un'ansia incontenibile. Ora allungava la mano per sorreggere l'estremità della bara, ma non faceva che intralciare i portatori. ora correva di dietro e cercava di trovarsi un posto lì. Cadde un fiore nella neve e lui si slanciò a raccattarlo, come se dalla perdita di quel fiore dipendesse Dio solo sa cosa. «E la crosta di pane, la crosta di pane, l'abbiamo dimenticata», gridò all'improvviso atterrito. Ma i ragazzi gli ricordarono che aveva già preso la crosta di pane e che l'aveva in tasca. Egli allora la tirò fuori e, rassicurato, si calmò. «Gliushenka», aveva chiesto, «Gliushenka», si affrettò a chiarire ad Agiosha. «Ero seduto accanto al suo lettino una notte, quando lui mi ordinò ad un tratto, «Papà, mentre sotterreranno la mia bara, sbriciola sopra un pezzo di pane, così i passeri voleranno da me e io li sentirò, e sarò contento di non stare da solo». «Questa è una buona cosa», disse Agiosha, «dobbiamo portarne spesso». «Ogni giorno, ogni giorno», balbettò il capitano che sembrava rallegrato da quel pensiero. Giunsero in chiesa e posero la bara al centro. I ragazzi la circondarono e rimassero rispettosamente in piedi per tutta la cerimonia funebre. Era una vecchia chiesa piuttosto povera. Molte icone erano senza cornice, ma pregare sembra più facile in quelle chiese. Durante la messa, pareva che Snigiriev si fosse calmato, sebbene di tanto in tanto riaffiorasse in lui quella inconsapevole e vaga inquietudine. Allora si avvicinava alla bara per aggiustare il panno o il veneic, oppure, quando cadde un cedo dal candeliere, egli si lanciò per rimetterlo a posto e ci impiegò un bel po' di tempo. Finalmente si calmò e si mise a fermo accanto alla bara, con uno sguardo di ottusa preoccupazione e perplessità. Dopo la lettura dell'epistola, egli sussurrò ad Agiosha, che stava accanto a lui, che l'epistola non era stata letta a dovere, ma non dette spiegazioni. Quando giunsero all'inno, come un cherubino, egli si unì al canto, ma non riuscì a finire. Cadde in ginocchio, premette la fronte al pavimento di pietra e rimase in quella posizione per un pezzo. Infine giunsero al servizio funebre, vero e proprio, e distribuirono i ceri. Il padre, fuori di sé, cominciò ad agitarsi un'altra volta, ma quel canto funebre, commovente e suggestivo, toccò e scosse la sua anima. Ad un tratto sembrò che egli si rattrappisse, poi proruppe in singhiozzi rapidi e frequenti, che inizialmente tentò di soffocare, ma alla fine proruppe in un pianto dirotto. Quando venne il momento di prendere congedo dalla salma e coprire la bara, egli la cinse con le braccia, come se non volesse permettere che gli usenca venisse coperto, e cominciò a dare rapidi e avidi baci sulle labbra del suo ragazzo morto. Finalmente riuscirono a convincerlo e ad allontanarlo dalla pedana. Quando egli si slanciò, allungò la mano e afferrò alcuni dei fiori della bara. Gli guardò, e una nuova idea sembrò occupargli la mente, tanto da fargli apparentemente dimenticare il suo dolore. A poco a poco si immerse nelle sue riflessioni e finì col non opporre alcuna resistenza, quando la bara fu sollevata e portata alla tomba. Questa si trovava non lontano, all'interno del recinto, molto vicino alla chiesa. Era costosa. Caterina Ivanovna aveva provveduto alle spese. Dopo il consueto rituale, i becchini calarono la bara. Snegiriev, con i fiori in mano, si sporse a tal punto sopra la fossa scoperta che i ragazzi lo afferrarono per il cappotto e lo tirarono indietro. Sembrava che non comprendesse pienamente quello che stava accadendo. Quando cominciarono a riempire la fossa, egli indicò preoccupato la terra che cadeva e fece per dire qualcosa, ma nessuno riusciva a capire che cosa. E poi si calmò da solo. Poi gli ricordarono che doveva sbriciolare la crosta di pane ed egli fu preso da una subitanea agitazione. Afferrò il pane e cominciò a spezzettarlo e a gettare i pezzettini dentro la fossa. «Venite, volate qui, uccellini, volate qui, passerottini», mormorava in apprensione. Uno dei ragazzi notò che gli era scomodo sbriciolare il pane con i fiori in mano e gli suggerì di darli a qualcuno perché li tenesse nel frattempo. Ma lui non lo fece. Anzi, sembrava piuttosto allarmato per i suoi fiori, come se glieli volessero togliere con la forza. Poi, dopo aver dato un'occhiata alla tomba ed essersi accertato che tutto fosse a posto e che il pane fosse stato sbriciolato, egli, con grande meraviglia di tutti, si girò, persino con calma, e si avviò verso casa. Ma il suo passo si faceva sempre più affrettato e gli correva quasi. I ragazzi da Gioscia gli tenevano dietro. «I fiorellini sono per la mammina, i fiorellini sono per la mammina!» «Hanno offeso la mammina», cominciò ad esclamare ad un tratto. Qualcuno gli disse di mettersi il cappello, che faceva freddo, ma egli, nel sentirsi dire così, gettò il cappello nella neve, come per rabbia, e continuava a ripetere. «Non mi metterò il cappello, non me lo metterò!» Smurov lo raccolse e glielo portò per tutto il tragitto. Tutti i ragazzi stavano piangendo. Kolia è il ragazzino che aveva scoperto i fondatori di Troia, più di tutti gli altri. Sebbene anche Smurov stesse piangendo amaramente, con il cappello del capitano in mano, tuttavia fece in tempo ad afferrare un frammento di mattone rosso, che spiccava sulla neve del sentierino, per gettarlo a uno stormo di passerotti che passava in volo. Gli mancò, naturalmente, e continuò a correre piangendo. A metà strada, Snigiriev si fermò, rimase immobile per mezzo minuto, come se fosse stato colpito da qualcosa, e tutto a un tratto, girandosi verso la chiesa, fece percorrere indietro verso la tomba abbandonata. Ma i ragazzi lo raggiunsero e lo bloccarono da tutti i lati. Allora, egli, come privo di forza, cadde sulla neve come se lo avessero colpito, e dibattendosi fra Urla e Singhiozzi, cominciò a gridare «Batiuska! Yushanka! Caro Batiuska!». Agiosha e Kolia cercavano di farlo alzare, di persuaderlo, di convincerlo. Capitano, basta. Un uomo coraggioso ha l'obbligo di sopportare il dolore, mormorava Kolia. «Rovinerete i fiori», disse Agiosha, «e la mammina li sta aspettando. Sta lì seduta e piange, perché poco fa non le avete dato i fiori di Yushanka. Il lettino di Yushanka è ancora lì. Sì, sì, dalla mammina», si ricordò all'improvviso Snigiriev. «Porteranno via il letto, lo porteranno via», soggiunse come se avesse davvero paura che glielo portassero via. Così balzò in piedi e si rimise a correre verso case. Ma non era molto distante e ci arrivarono tutti insieme. Snigiriev sparancò la porta in fretta e urlò a sua moglie, con la quale aveva appena spietatamente litigato. «Mammina cara, Yushanka ti ha mandato dei fiorellini, care gambine malate!». Gridava così, tenendole il mazzetto di fiori che si erano spezzati e ghiacciati mentre si dibatteva nella neve. Ma in quel momento, accanto al lettino, egli scorse in un cantuccio gli stivaletti di Yusha, che la padrona di casa aveva appena messo a posto, uno accanto all'altro. Erano vecchi, rattoppati, si erano fatti rossicci e rigidi. Nel vederli, egli sollevò le braccia e si gettò su di essi. Poi cadde in ginocchio, afferrò uno stivaletto e premendoci sopra le labbra, cominciò a baciarlo avidamente, gridando «Yushanka, Batyushka, caro Batyushka, dove sono i tuoi piedini?». «Dove li hai portati?». «Dove lo hai portato?». «Dove lo hai portato?». «Dove lo hai portato?», gridava la demente con voce lacerante. A quel punto, anche il Noetka proruppe in singhiozzi. Colia corse fuori dalla stanza. I ragazzi lo seguirono. Dopo di tutti, uscì anche Agiosha. «Lasciamoli piangere», disse a Colia. «Non serve a nulla cercare di consolarli proprio adesso. Aspettiamo un minutino e poi rientriamo». «È vero, non serve a nulla, è terribile», confermò Colia. «Sapete, Karamazov», soggiunse abbassando la voce in maniera che gli altri non lo sentissero, «sono molto triste e se solo ci fosse un modo per riportarlo alla vita, darei qualunque cosa al mondo». «Ah, anch'io», disse Agiosha. «Che ne dite, Karamazov?». «È il caso che noi torniamo qui, stasera?». «Credo che si ubriacherà. Si ubriacherà, forse. Veniamoci soltanto noi due, voi e Dio. Sarà sufficiente per far compagnia un'oretta alla mamma e a Ninoetka. Se torniamo tutti insieme, riporteremo loro alla mente ogni cosa», suggerì Agiosha. «La padrona di casa sta preparando la tavola per loro. Faranno un pranzo funebre o qualcosa del genere. Verrà anche il Pope. È il caso di andarci anche noi, Karamazov?». «Certamente», disse Agiosha. «È strano tutto questo. Un tale dolore e poi tutto a un tratto? Iblini. È tutto così innaturale nella nostra religione. È tutto così innaturale nella nostra religione. «Mangeranno anche i salmone», osservò ad alta voce il ragazzo che aveva scoperto i fondatori di Troia. «Vi prego caldamente, Kartashov, di non immischiarvi più con le vostre stupidaggini, soprattutto quando non si sta parlando con voi e a nessuno importa sapere se voi esistiate o no», tagliò cortocoglie irritato rivolgendosi al ragazzo. Il ragazzo arrossì violentamente, ma non ebbe il coraggio di replicare. Nel frattempo tutti camminavano mogi-mogi per il sentierino, quando ad un tratto Smurov esclamò «Ecco il macigno di Yusha», dove lo volevano seppellire. Tutti si fermarono presso quel macigno, in silenzio. Agiosha si guardò intorno e di colpo gli si affacciò alla mente tutta la scena che gli aveva descritto Znigiriev, di quella volta che Yushenka, piangendo e abbracciando il padre, aveva esclamato «Paparino, paparino, come ti ha umiliato!» Qualcosa fremette nel suo animo. Egli abbracciò in uno sguardo serio e solenne tutti i cari, voluminosi visi di quegli scolaretti, i compagni di Yusha ed un tratto disse loro «Signori, vorrei dirvi una parola qui, proprio in questo luogo». I ragazzi gli si fecero attorno e subito rivolsero a lui i loro sguardi attenti e pieni d'attesa. «Signori, presto ci saperemo. Per qualche tempo io sarò con i miei due fratelli, dei quali uno sarà deportato e l'altro giace malato in pericolo di morte, ma ben presto lascerò questa città e forse per molto tempo. Stringiamo un patto qui, presso il macigno di Yusha, che non ci dimenticheremo prima di tutto di Yushenka e poi l'uno dell'altro e qualunque cosa ci accada in futuro, nella vita, anche se non dovessimo incontrarsi per i prossimi vent'anni, dobbiamo sempre continuare a ricordare il giorno in cui abbiamo sepolto il povero ragazzo, al quale in passato avevamo tirato i sassi presso il ponticello, ve lo ricordate, e di come poi tutti abbiamo preso ad amarlo. Egli era un bravo ragazzo, buono e coraggioso, aveva il senso dell'onore e soffriva per il crudele affronto subito da suo padre e contro quell'affronto e gli si è rivoltato. E così, per prima cosa, dobbiamo ricordare lui, signori, per tutta la nostra vita. E per quanto possiamo essere impegnati in cose della massima importanza, per quanto possiamo avere ottenuto grandi onori o essere precipitati in qualche grande disgrazia, in nessun caso dobbiamo dimenticare di come siamo stati bene un tempo qui, tutti insieme, uniti da un sentimento così nobile e buono che ha reso anche noi, per il periodo in cui abbiamo amato il povero ragazzo, migliori, forse, di quello che siamo in realtà. Colombini miei, lasciate che io vi chiami così, perché voi tutti siete molto simili a quei graziosi uccellini grigio-verdi adesso, in questo momento in cui guardo i vostri buoni, cari visi, cari miei figlioletti. Forse voi non comprendereste quello che vi sto dicendo, perché spesso dico cose incomprensibili, ma voi ricordate lo stesso e un giorno in futuro sarete d'accordo con le mie parole. Sappiate che non c'è nulla di più sublime, di più forte, di più salutare, di più utile per tutta la vita, di un buon ricordo e soprattutto di un ricordo dell'infanzia, della casa paterna. Vi parlano molto della vostra educazione. Ma qualche meraviglioso, sacro ricordo che avrete conservato della vostra infanzia potrà essere per voi la migliore delle educazioni. Se un uomo porta con sé molti di questi ricordi nella vita, egli sarà al sicuro fino alla fine dei suoi giorni. Anche se dovesse rimanere un solo buon ricordo nel nostro cuore, anche quello potrebbe servire un giorno per la nostra salvezza. Potremmo anche diventare cattivi un giorno, potremmo anche non essere capaci di frenarci davanti a una cattiva azione. Potremmo ridere delle lacrime degli uomini e di coloro che dicono, come ha detto Colia poco fa, vogliono soffrire per tutti gli uomini. Di quegli uomini potremmo anche prenderci beffa con cattiveria. Tuttavia, per quanto possiamo diventare cattivi, che Dio non voglia quando ricorderemo il giorno in cui abbiamo sepolto gli uscia, come lo abbiamo amato negli ultimi giorni della sua vita e come in questo momento ci siamo parlati da amici stando tutti insieme presso questo macigno, allora anche il più cattivo fra di noi, anche il più cinico, ammesso che si sia diventati tali, non oserà dentro di sé ridere di quanto è stato buono e nobile in questo momento. Potrebbe accadere che proprio questo ricordo lo distolga da un grande male ed egli potrà riflettere e dire, sì, allora ero buono, coraggioso e onesto. Che rida pure di sé stesso, non fa niente. Gli uomini ridono spesso di ciò che è buono e onesto, ma lo fanno solo per leggerezza. Vi assicuro però, signori, che dal momento stesso in cui riderà, egli dirà dentro di sé stesso, no, ho fatto male, perché su queste cose non si ride. Sarà sicuramente così, Karamazov. Io vi comprendo, Karamazov, esclamò Kolia con gli occhi che gli brillavano. I ragazzi si agitarono commossi e volevano dire qualcosa anche loro, ma si trattennero e continuarono a rivolgere i loro sguardi attenti e commossi all'oratore. Dico questo nel caso terribile che diventiamo cattivi, proseguì agli oscia, ma perché mai dovremmo diventarlo? Non è così, signori? Per prima cosa, soprattutto, noi saremo buoni, poi onesti e poi non ci dimenticheremo mai l'uno dell'altro. Lo ripeto ancora, io, per primo, vi do la mia parola che non dimenticherò nessuno di voi. Ciascun viso che in questo momento mi sta guardando lo ricorderò, dovessero passare pure trent'anni. Poco fa Kolia ha detto a Karamazov che a nessuno importa sapere se gli esista o no al mondo, ma potrò mai dimenticare io che Karamazov esiste a questo mondo e che, ecco, in questo momento non sta arrossendo come quella volta che scoprì Troia e mi guarda con i suoi simpatici, buoni e allegri occhietti. Signori, signori, miei cari, cerchiamo di essere tutti generosi e coraggiosi come Yushenka, intelligenti, coraggiosi e generosi come Kolia, ma egli sarà molto più intelligente quando sarà cresciuto. E cerchiamo di essere così modesti, ma anche intelligenti e cari come Karamazov. Ma perché parlo di questi due? Voi tutti, signori, mi siete cari, per sempre conserverò tutti voi nel mio cuore e vi chiedo di conservare anche me nel vostro? E chi, chi ci ha uniti in questo buono, nobile sentimento che noi ricorderemo e desidereremo ricordare per sempre, per tutta la vita, se non Yushenka? Il buon ragazzo, il dolce ragazzo, il ragazzo che sarà caro a noi nei secoli dei secoli. Allora non dimentichiamolo mai. Eterna memoria a lui, nei nostri cuori, da ora e nei secoli dei secoli. Sì, sì, eterna memoria, eterna memoria, gridarono all'unisolo i ragazzi con le loro vocette squillanti e i volti commossi. Ricorderemo anche il suo viso, il suo vestitino, i suoi miseri stivaletti e la sua piccola bara e il suo sciagurato padre peccatore e di come egli insorse coraggiosamente contro tutta la classe in sua difesa. Ricorderemo, ricorderemo, fecero coro ancora una volta i ragazzi. Era coraggioso, era buono. Ah, quanto gli volevo bene, esclamò Kolia. Ah, figlioletti, cari amici, non abbiate paura della vita. Com'è bella la vita se compie un'azione giusta e buona. Sì, sì, ripeterono i ragazzi solennemente. Karamazov, vi vogliamo bene, gridò impulsivamente una voce, forse quella di Kartashov. Vi vogliamo bene, vi vogliamo bene, fecero ecco anche tutti gli altri. Molti avevano gli occhietti pieni di lacrime. Ura, per Karamazov, proclamò Kolia entusiasta ed eterna memoria al povero ragazzo, soggiunse ancora una volta con sentimento agli oscia. Eterna memoria, ripeterono i ragazzi. Karamazov, gridò Kolia, è vero che la religione dice che noi tutti risorgeremo dai morti e torneremo a vivere e ci rivedremo l'un l'altro, tutti, anche gli Ushankè. Senza dubbio risorgeremo, senza dubbio ci rivedremo e in gioia e lietezza ci racconteremo l'un l'altro tutto il nostro passato, rispose agli oscia fra sorridente ed estasiato. Ah, come sarà bello, sfuggì a Kolia. Ma adesso basta parlare e andiamo al pranzo funebre. Non siate turbati dal fatto che mangeremo blini. Questa è un'antica, eterna tradizione e c'è del buono in essa, disse agli oscia, ridendo. Su, andiamo, andiamoci tutti adesso, mano nella mano. E sarà così per sempre, per tutta la vita. Mano nella mano. Urrà, per Karamazov, gridò Kolia. Un rapper Karamazov, gridò Kolia un'altra volta con trasporto e ancora una volta i ragazzi fecero eco al suo grido.